Musica Approfitta dell'eco bonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL, contattaci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica torna a diminuire il mese di dicembre e inizierà l'insegna del tempo stabile, anche se ben presto le condizioni meteo andranno guastandosi. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la situazione sarà tranquilla, la nostra grafica ci mostra che a prevalere sarà il sole, il cielo si presenterà sereno con poche nubi a carattere sparso. Nella seconda parte della giornata cielo più nuvoloso, anche coperto, e nella notte tra mercoledì e giovedì avremo qualche pioggia. Temperature minime sempre piuttosto fredde, intorno allo zero o di poco sotto, massime sui 5-8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà soleggiato, dal pomeriggio però cielo via via più grigio e coperto, nella notte precipitazioni sparse. Temperature minime tra meno 1 e 6 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, bel tempo soleggiato in giornata, con qualche addensamento ma innocuo. Temperature minime intorno allo zero, massime sui 9-10 gradi all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Approfitta dell'eco bonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL, contattaci per un preventivo gratuito. Grazie a tutti.